L'ordinanza che voi avevate annunciato giovedì scorso in prefettura non è ancora stata pubblicata, ci sono problemi? Quando uscirà? No, non uscirà a brevissimo, con una decorrenza dagli inizi della prossima settimana, ci sono state fatte delle limature anche dal punto di vista tecnico-giuridico anche in questo confronto con la prefettura, le forze dell'ordine, il tema della Movida è un tema di grande complessità che noi dobbiamo affrontare con degli strumenti emergenziali come l'ordinanza, ma poi con degli strumenti ordinari, quindi un nuovo regolamento che poi sarà oggetto ovviamente di un'elaborazione da parte del Consiglio Comunale e che noi speriamo di varare in tempi molto rapidi. Sindaco, temeva un ricorso dell'edaticamento a questa ordinanza? Tutte le ordinanze possono avere un ricorso, quindi il nostro obiettivo, io questo l'ho detto sempre, noi vogliamo valorizzare la Movida sana e debellare la Movida malata e per far questo abbiamo bisogno di più regole, di più ordine, di valorizzare quelli che sono gli imprenditori che vogliono investire, che stanno già investendo e che hanno investito, tutelare i residenti, farlo in una città che purtroppo negli ultimi anni ha vissuto una deregulation che ha determinato una situazione esplosiva per concentrazione di locali, per mancanza di orari, quindi questo è un percorso che noi faremo, ma l'amministrazione non si sottrarrà perché darà risposte concrete a quelli che sono i bisogni della città. La città va governata, è facile non far niente perché adesso noi dobbiamo decidere e fare. Sindaco, ci saranno qualche ritocco alla delibera rispetto a come era stata l'ordinanza, rispetto a come era stata annunciata o sarà proprio uguale, con quelle regole là, sanzioni previste? Orientativamente sarà quella, stiamo valutando l'estensione per zone perché ci sono alcune zone della città dove non ci sono locali, quindi dove probabilmente l'estensione dell'ordinanza non è utile, quindi questa è una valutazione che si sta facendo in queste ore. La sproporzione tra la sanzione al parcheggiatore abusivo e quella al titolare dell'impresa by night che non rispetta le regole? Le sanzioni sono quelle previste dalla legge, quindi non è che le abbiamo fatte noi le sanzioni, quindi è chiaro che noi ovviamente applichiamo quelle che sono le sanzioni di legge, ci sono sanzioni previste per i locali e sanzioni previste per i parcheggiatori abusivi, quindi le sanzioni non le facciamo noi, le sanzioni della legge sono delle norme nazionali a cui noi ci dobbiamo attenere.